Ciao ragazzi, ciao ragazzi, bentornati sul canale dello zio Alphix Oggi torniamo su Rainbow Six Siege, dove è il primo episodio dove ha fatto delle belle partite Però non vi prometto di nuovo ragazzi quelle belle prestazioni Sono sempre Platino 2 Praticamente la partita dopo di quella lì sono così vestito Perché sto, ragazzi, si vede, sono un po' influenzato purtroppo E, ragazzi, mi raccomando un like per questo nuovo anno, questo gennaio 2018, mi raccomando Ok ragazzi, sono con degli italiani L'ho mutati perché sennò si sente tutto il loro baccano, giustamente che parlano Dovrei anche io in questo caso No, perché è morto così questo Perché è morto così questo, ragazzi Non me lo spiego Ma qua non hanno fatto la barricata Proviamoci comunque Madonna, ma sto qua Sto qua Come ha fatto a prendermi Cioè, 13 Vieni, risettami Che dovrebbe essere libero, raga Non è morto questo? Serio? Solo questo non è morto? Non è morto? Sì, da tua preghiera Perché non hanno fatto le bottele, questi sono strani Porca Eva, raga C'è lì, dirò bene, ti sicuro Ecco lì Che c'è l'ho fatto? Perché non stavo avendo messo a coprire? Rimangono 15 secondi Nuovo caricatore 10 secondi Si era chiusa la No, raga Non potete fare Grande, grande Doppia Grande, doppia Comunque, raga Siamo Raga, devo Almeno io devo uscire qua Mamma mia, raga Ho combinato No Ultimo uomo, raga Ok, qui non c'è nessuno Dove potrebbe essere, raga È ancora lì sopra? Sul serio? Dai, 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 dai Siamo subito ripresi con due kill Bene così, dai Non so, ma i miei colpi vanno molto più in ritardo Non so perché, raga Codesti, capire? Sono diventato Vegeta all'improvviso Speriamo che sono andati giù Speriamo di cuore che sono andati giù No, raga Ufficio Prevedibile Anzi, dai che c'è il drone Me lo tengo qua Perché è importante Dove che vedremo qua Anzi, lo giro di così Magari non me lo vedo Le tattiche dello zio Ok Attenzione agli sponchi Ah, io puscere di brutto proprio, sapete? Vorrei fare sta cosa Mmm, mi hanno fatto il drone Ok, qua non c'è nessuno per ora E che non mi dispiace, raga Potremmo anche fare una corsa fino a sopra Sì, tempismo, timing Una volta a noi Ogni tanto pure a noi, raga Andiamo a vedere gli angoletti Se ci sono Sti bastardoni Ok Facciamo sto coso E la norm sta qua, no? Ok Ok Pulsa di qua Che stava c'è noto sto casino questo? Non lo capisco No Pensavo che Pensavo che l'avesse ucciso il compagno Invece no Però la raga Pensavo che stava a terra Non volevo rubare la kill Avete capito? Ho levato il dito dal È qui, è qui, è qui È qui, dai Dai, bro Dietro a te Madonna mia Ibana che stava facendo Assurdo Ho preso la mia amata E la raga Però ho preso le Il filo spinato qua non dovevo Mi servivano le bombette per aprire Qui E pure qui Quindi ho Ho sbagliato, raga Drone Tu farai una brutta fine Non l'ho preso Grande drone lì Fondamentale Raga, qua dobbiamo mettere Sto coso da qualche parte L'ammazzadrone mi chiamavano Raga, lo mettiamo Sapete dove? Mettiamo qui Ok Uno lo mettiamo pure qua Ok Perfetto così In realtà uno potremmo Metterlo pure Vabbè Ormai non possiamo più raccogliere Bene così Non mi uccidete ora che vi uccido Qualcuno ha peso lì? No Blackbeard ha ucciso Pulse Qualcuno ha peso? Oh cazzo lì Aspetto che entra Tipo che entra No Non è entrato Andiamo se lo pucino Ok Buono buono Il gioco col compagno No Laga perché ho ricaricato Che ho 10.000 colpi Con quest'arma del cazzo Ho fatto un errore Di proprio banale C'avevo ancora 20-30 colpi sicuro Mi hanno rubato pure La chili del compagno Vabbè va bene così L'avevo buttato io a terra No No però C'era dietro qua? C'era sotto Hai ragione Vesta è lo zio bomber Grande zio E burro Roma Prima di tutti italiani siamo Sta salendo back Sta salendo back Ah meno ma Oh dietro 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 Ma se lo trova dietro raga 100% Grande L'ultimo attaccante rimasto in vita Presta blackbeard No però Deve andarci là Puntato Deve andarci così Eh si Da dentro alla casa Entrato Buono Contro di noi Ha bandato zio da Jenny Male Non ci fa Magari Jenny Non tornare proprio più Vate a addormentare Comunque anche le notte ragazzo Ci sono le notte Dobbiamo vincerla raga Vediamo se ci riesco a fare Stessa cosa di prima Un capello che mi vola così in faccia Io ci provo raga Oh oh Eh Eccolo lì Ha aperto lui per me Smoke Ok smoke O no Ancora lì Non è più lì Smoke Ragà Ah l'hanno ucciso Optimus Ma quella è la smoke O la vigil Boh Non lo sapremo mai Saliamo come pazzi Ok C'è qualcuno di sicuro Bella Prossima volta Ela Ho paura che ci sia uno di qua No No dalle scole Porco zio Mamma mia Vigil di merda Dai fatevelo No dai No raga Non ci facciamo ucciderti quanti così Dai 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 Non c'è nessuno Non c'è nessuno Inutile che spari a casa Buono Non l'ho ucciso No Ce la può fare Ce la può fare raga A sinistra Uno si atterra Uno si atterra raga Ma in cosa la prende la kill Non so perché Grande 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 Pitania Andiamo a prendere su tra due E andiamo a vincere dai Jenny ha fatto ritorno ma Non può prendere la regola Dato che abbiamo già scelto L'operatore in ori No Ubisoft Ubisoft Fai la brava Fai la brava Ubisoft Ok perfetto Impazzito? Impazzito? Mettiamone uno qua Mettiamone uno Qua Raga Metto qui Andiamo se riusciamo a fare Sta tattica impossibile Anche molto 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 Ristiosa Forse ho capito dove sono Raga Oh cazzo Sono dalle scale Davvero? Sì Ormai hanno giocato strani Questi Uno è qui What? No raga Ma sempre questo No c'ha pochissima vita Dai raga L'ho preso in testa In faccia No andiamo così Potevo fare molto meglio alla fine Sapevo che stava lì Raga Lo sapevo che era lì Tempismo ovviamente Quello butta il drone E io sto lì Vabbè Spero comunque questo video vi sia piaciuto ragazzi 5 2 5 Non benissimo Però abbiamo portato una vittoria a casa Che male non fa Praticiamo per il Road to Diamond So che non ci arriverò mai Soprattutto giocando da solo Però Ci si prova Ciao raga Un bacio Al vostro zio Alfix Ciao raga